Ragazzi buona giornata a tutti, buon ferragosto, buone vacanze per chi è in vacanza, buone ferie e per chi invece lavora anche durante le ferie nazionali diciamo così durante il ferragosto, buon lavoro e buona sopportazione del caldo anche. Allora ragazzi innanzitutto mettete mi piace al video, non vi costa nulla, mi raccomando per supportare questo canale mettete mi piace al video. Adesso parliamo un attimo dell'ufficialità, ieri non l'ho fatto perché comunque avevo già fatto un video e comunque non è che avessi tanta voglia. Parliamo un attimo dell'ufficialità di Zaccaria ma non solo dell'ufficialità di Zaccaria, diciamo quello che è stato questo giocatore e altri giocatori. Allora Zaccaria è andato al Monaco per 20 milioni di euro, hanno scritto che noi abbiamo fatto una plusvalenza solo di 4 milioni qualcosa per via delle commissioni che non ho ben capito se hanno di fatto, mi pare per le commissioni passate più che altro. No perché comunque la UE di fatto anche nel comunicato ufficiale a Juventus c'è proprio scritto che la commissione appunto, c'è la commissione che l'acquisto, c'è sulla traccessione di Zaccaria. E' stata pagata 20 milioni alla Juventus, allora come vi parlo e vi dico sempre delle plusvalenze che sono un beneficio magari momentaneo, però a lungo andare conta molto più l'ammortamento ma anche la liquidità perché comunque Zaccaria l'abbiamo pagato 10 milioni, magari metteteci anche con la commissione 12-13 milioni e l'abbiamo venduto a 20 milioni. Un anno e mezzo dopo, quindi praticamente venduto il giocatore a 7 milioni in più, quindi di fatto a livello di liquidità da questa operazione di acquisto prima e di cessione poi hai 7 milioni in più a livello di liquidità, no? 7-10 milioni. Quindi questo secondo me ragazzi quando si parla di acquisti e cessioni è un effetto, è diciamo una situazione da valutare, non si può guardare solo la plusvalenza e dire è stato un buon affare a livello di plusvalenza perché se tu comunque compri un giocatore, faccio esempio 80 milioni, ok? Come Vlaovic, ho tanto milioni e dopo 2-3 anni lo vendi facendo anche plusvalenza ma lo vendi a 60 milioni, comunque è stato un acquisto fallimentare. Anche se tu fai plusvalenza, 60-70 milioni, anche se fai plusvalenza perché significa che è stato svalutato, ok? Che hai meno liquidità rispetto a 2-3 anni prima e questo è un dato che secondo me bisogna prendere in considerazione, non solo la plusvalenza becera, perché poi quando tu vai a fare acquisti non è che gli dici alla società con la quale vai a trattare sì ma guarda io ho la plusvalenza, i soldi non li ho però comunque ho la plusvalenza, ho il bilancio positivo quindi ti pago, ti pagherò. Compriamo il giocatore però alla fine ti pagherò quando rientrerò in bilancio all'anno, ti pagherò. No, non funziona così, cioè quando vai a trattare con le società tu vai a trattare con la liquidità e che conta ancora di più rispetto alla plusvalenza e al bilancio positivo, ok? Boh, perché bisogna sottolineare questo perché vedo molti tifosi ormai che si basano sulla plusvalenza come se fossero commercialisti ma direi questo come se fosse la cosa basilare da guardare quando si fa una trattativa in entrata e in uscita, anzi in entrata prima e in uscita poi dello stesso giocatore, non funziona così, ripeto, plusvalenza ti porta beneficio nell'immediato, ecco perché per molti versi, anzi per tutti i versi Lukaku Brau c'è una blasfemia, secondo me è una cosa che non si può fare assolutamente, assolutamente, è uno scambio che, quindi questo è, allora, l'acquisto di Zaccaria, anzi, la carriera tra virgolette di Zaccaria alla Juventus la valutiamo con un bel 4, ok? Zaccaria ha chiesto espressamente, è un altro giocatore chiesto espressamente da Massimiliano Allegri, quindi se noi guardiamo la società Juventus ha bocciato, ha bocciato Paredes, ha bocciato Di Maria, ha bocciato, credo che abbia già bocciato Pogba però se lo tiene perché purtroppo ha un contratto lungo e costoso, ha bocciato anche Kostic, perché Kostic hanno detto che per un'offerta di 15-20 milioni Kostic può portire, quindi non è quel giocatore che tutti mi hanno fatto passare come imprescindibile l'anno scorso, come giocatore, sì, fa 2-3 assist, grazie, fa 70 cross come Quadrado, quando si diceva che ha fatto 17 assist, grazie, fa 1000 cross all'anno, vabbè, comunque al di là di questo, Allora, la carriera di Zaccaria è da 4 alla Juventus, secondo me, comunque appunto anche altri giocatori che ha voluto lo stesso Allegri, quindi se noi guardiamo quest'anno, dopo un anno, i giocatori che ha richiesto Allegri sono stati praticamente tutti bocciati, praticamente tutti, quindi vale la pena continuare ad ascoltarlo con Lukaku, con Berardi, con questi giocatori qua, per me assolutamente no, perché ha già dimostrato di fallire, di non essere in grado, perché da una parte Spalletti, che a me, sapete, non piace, ma Spalletti chiede Kvara Skyla, ok, perché giunto lì, bravo lui, però è Spalletti ad aver consigliato Kvara Skyla, che l'aveva già visto, Kvara Skyla, 20 anni, quanti cazzo gli anni ha, 20 anni, vabbè, comunque, quell'età lì, mentre all'altra parte abbiamo un allenatore che chiede il 30, perché è incapace di allenare, ragazzi, adesso, sapete chi sta allenando? Magnanelli, vi ho fatto già vedere, all'iniziazione, gli smarcamenti, quei pochi smarcamenti facendo un possesso, chi è che li fa, secondo voi? Allegri? Praticamente sta facendo come se fosse in nazionale, vabbè, ma al di là di questo, cioè sta facendo solo il gestore, l'allenatore, in questo momento, lo sta facendo Magnanelli, e speriamo che glielo permetta di fare tutto l'anno, e magari sarà lui il post allegri, che cazzo ne so, però, sicuramente lui ha il patentino, se non sbaglio, quindi, bisogna vedere, anche là, vediamo anche il futuro, perché, qua, parliamo tanto di, no, Spalletti, di, che poi andrà in nazionale, di altri natori post allegri, fra due anni, perché credo che due anni rimanga, purtroppo, e magari può essere veramente Magnanelli alla fine, però, vabbè, staremo a vedere, staremo a vedere, che non è che dico che Magnanelli è un fenomeno, attenzione, però che Magnanelli, avendo avuto, come, diciamo, maestri, prima De Zerbi, poi Dionisi, che comunque con l'iniziazione, sotto quell'aspetto sono un po' simili, poi cambia tutto il resto, adesso lo sviluppo e l'azione, però, sotto quell'aspetto sono simili, e poi il suo maestro principale, De Zerbi, ha giocato per De Zerbi, e, alla fine sta prendendo spunto da lui, di sicuro, non l'ho mai sentito, l'ho sentito prendere spunto da Lippi, da De Zerbi, da Guardiola, da Klopp, non l'ho mai sentito, nessuno, nessuno natore al mondo, prendere spunto, né da Simeone, né da Allegri, tanto meno da Allegri, ma neanche dagli stessi Mourinho, non l'ho mai sentito prendere spunto da Mourinho, sì, magari dicono, di Mourinho mi piace quella dote lì, ecco, però non è che prendo spunto per allenare la mia squadra da Mourinho, da questi allenatori speculativi, e neanche dallo stesso Simonin Zaghi che mi esaltano, non l'ho mai sentito dire, prendo esempio da Simonin Zaghi, da questi allenatori che vi ho citato, sì, però, quindi, detto questo, l'acquisto, l'accessione, scusatevi di Zaccaria, per me è da 7 e mezzo, perché è una buona accessione, per un giocatore che è stato inutile per la Juventus, praticamente, che stava, cioè, ha iniziato ad essere anche soggetto infortuni, perché ha iniziato ad avere problemi fissi, quando è venuto da noi, fatalità con Allegri, e ne ha avuti anche al Chelsea, quindi, bisogna dire che secondo me è stata una buona accessione, per quello che non ha dimostrato di fatto, quindi, e ripeto, la società ha per l'ennesima volta bocciato una scelta, sul mercato di Massimo di Allegri, e questo è un dato di fatto, quindi, il fatto, il 4 in carriera, nella carriera juventina, tra i volete, in questo anno e mezzo, di Zaccaria è anche un 4, anzi, ad Allegri gli darei un 3, per la campagna, questi, dell'instant team, adesso, si parla sempre di questo instant team, anche quest'anno, l'anno scorso, eh ma Pogba, è Pogba chi l'ha scelto? È Di Maria chi l'ha scelto? È Parades che l'ha scelto? Poteva, tranquillamente adesso, i giocatori, al posto di Pogba, che, non avesse problemi fissi da 3 anni, e l'ha scelto lui, poteva chiedere tranquillamente, ai giocatori, sicuramente più giovani, rispetto a Di Maria, con più voglia di dimostrare un qualcosa, rispetto a Di Maria, e Di Maria l'ha scelto lui, poteva scegliere, un centrompista più valido, più giovane anche là, più promettente, su tutto l'aspetto di tantissime, su tutto l'aspetto di tante cose, e con più voglia di dimostrare Di Paredes, e ha scelto lui Paredes, Kostic, si lamenta della difesa 3, sono stato consigliato di mettere la difesa 3, Bremer posso anche capire, che te l'hanno preso, ma tu l'hai accettato, ma Kostic l'hai chiesto a te, che ha sempre giocato da quinto, e l'ha scelto lui, quindi, Vlaovic che non si trova bene, perché non sa proteggere il pallone, non l'ha scelto lui, però lui ha chiesto un attaccante, al posto di Morata, in quel gennaio lì, che poi sembrava che Morata dovesse fare la riserva di Vlaovic, invece ha giocato titolare, per fare il lavoro sporco per Vlaovic, e già lì si capiva, no, che Vlaovic non avrebbe potuto fare quella cosa lì, ma già chi l'ha visto alla Florentina, e chi sa leggere il calcio, io ve l'avevo detto cos'era Vlaovic, Vlaovic l'ha accettato, per 81 milioni, Zaccaria, centrocampista fisico, che gli serviva, e bla bla bla, l'ha chiesto lui, quindi dobbiamo continuare, a fallimenti, sui fallimenti, con Lukaku e Berardi, vogliamo continuare, che poi magari vince lo scudetto, ragazzi vince lo scudetto perché il Napoli non si ripeterà, perché l'Inter ha Simone Inzaghi che può essere un problema, anche se la Rosa meno peggio, meno peggiore del campionato italiano, il Milan non si sa, mille incognite con i giovani, quello che vogliamo, poi vince lo scudetto, ma ripeto, proprio per questo lo scudetto non è l'ago della bilanza, in un campionato mediocre, per dire se uno fa bene o fa male, cioè se mi vince la Premier League, dico effettivamente il campionato migliore, effettivamente qualche merito ce l'ha in questa Premier League, ovviamente, non quella di dieci anni fa, in questa Premier League, ma nella Serie A, cazzo, come vince l'RDV, che si diceva Tenag, vince l'RDV, è andato via Tenag, l'Ajax è arrivato a terza, e lui in altri è tornato in Champions, quindi, sinceramente, no, molte volte si sopravvaluta Allegri, si sottovalutano altri allenatori, perché non piacciono, perché si è anti calcio, perché questo è il discorso, cioè quelli che difendono Allegri, attaccano gli altri, tipo Tenag, Guardiola, non amano il calcio, non amano il calcio, come si fa ad attaccare chi insegna calcio, indipendentemente dai risultati che può portare, lo stesso Bielsa, cioè, sono allenatori che per carità, magari Bielsa non ha vinto un cazzo, ma Bielsa, a differenza di Allegri, ti insegna calcio, migliori come calciatore, con Bielsa stai sicuro che migliori, con Allegri no, soprattutto se sei giovane, perché era Fips, che è andato in nazionale, inglese, grazie a Bielsa, perché è uscito grazie a Bielsa, vabbè, questo è il quanto ragazzi, quindi, ufficiale Zaccaria al Monaco, ditemelo sotto nei commenti, cosa ne pensate, i vostri voti tra, la carriera, di Zaccaria alla Juventus, e la cessione, io ho dato 4 alla sua carriera da noi, e 7 e mezzo alla cessione di Giuntoli, indipendentemente dal fatto che sia stata una plusvalenza, solo di 4 milioni e mezzo, però, 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 la liquidità, è superiore sotto quell'aspetto, l'hai venduto, di più rispetto a quello che l'hai comprato, e non era facile, dato che in un anno e mezzo ha fatto cagare, sia da noi, sia, ma dal Chelsea, fino al primo infortunio importante, aveva fatto anche Benino, però, non ha fatto chissà che cosa, per raddoppiare il prezzo, praticamente, quindi, va bene così, va bene così, Rovella, 17 milioni e mezzo, non c'è ancora l'ufficialità, poi 17 milioni, poi ne parleremo, per lui, per Pellegrini, anche se, sapete bene, ho detto, effettivamente si poteva vendere, almeno 20 milioni, però un giocatore che arriva al Monza, problemi fisici, che secondo me è sopravvalutato, dalla stampa, dai nostri tifosi, che sembra che sia andato via Pirlo, con tutto rispetto, vabbè, comunque, sotto questo aspetto, Giuntoli, è vero che non è che abbiamo incassato, però ragazzi, Giuntoli, le eccezioni, a livello di cash, a differenza degli anni passati, le sta facendo, poi, dovresti ascoltare, Allegri per Lukaku e Berardi, e le critiche le prenderà, ma non dirò mai, Giuntoli vattene, perché bisogna dargli tempo, e secondo me, dopo il discorso della sentenza UEFA, il suo vero lavoro di rivoluzione, non partirà neanche dal 2024, anche se qualcosa appunto, le era sicuramente, prenderà qualche giocatore, di suo gradimento, ma partirà dal 2025, lui ha firmato, cosa, 4 anni, mi pare, 4-5, 5 anni, mi pare, quindi, vedremo cosa fare in questi 5 anni, avete dato, 8 anni di possibilità, da Allegri, penso che, almeno, i primi 2 anni, 2-3 anni, aggiuntoli, bisogna dargli, detto questo, ragazzi, buona giornata a tutti, ancora buon ferragosto, buone grigliate, buone vacanze, buon lavoro, eccetera, 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 a tutti, fino alla fine, anzi, scusate, fino al suo addio, sempre e comunque, e ci vediamo, al prossimo video, ciao a tutti, e ci vediamo,